Io ho una perversione, cioè quella di trovare la moda dove normalmente la moda non c'è, perché comunque mi interessa la moda come settore sociale, quindi raccomando a Gabriella di quando nel 2001, non so chi di voi se lo ricorda, un certo signore, si chiamava Silvio di Fusconi e decise, il primo governo che è arrivato abbastanza maluccio, di fare una nuova campagna elettorale con un partito che si chiamava Forza Italia e io all'epoca lavoravo per il diario, il diario è un bellissimo giornale che purtroppo oggi non c'è più, e dove Enrico De Aglio, che era il direttore, fece questa operazione che si chiama Berlusconerite, quindi chiamò tutti quanti i collaboratori del giornale per offrire un loro personale contributo, nel senso che ognuno di noi doveva in qualche modo raccontare il fenomeno Berlusconi, allora era stata una scelta, ci siamo dovuti sordire da molti anni, però dal proprio punto di vista, dal proprio punto osservatorio, racconto questa cosa a Gabriella che la trova molto divertente e l'ho vista molto esultante, proprio perché, ma non perché io ce l'ho anche in memoria particolare con Silvio Berlusconi, ce l'ho avuta molto questo modo di vestire, nel senso che l'analisi che io facevo sulla sua estetica, poi l'articolo uscì con un titolo molto buffo, si chiama l'estetica trash, con il trash, cattino, in strumento, in qualche modo, e questa vuol dire stata una delle mie due grandi soddisfazioni professionali, in cui ovviamente facevo questa analisi, ma poi c'era un articolo di giornalisti molto più importanti di me, molto più seri di me, Dante Alaglio, Antamale Zurueta, in cui lo accusavano, ricordate il scandalo di Telesilinco, Gabalaci, insomma, si parlava di cose molto dure, e il giorno dopo Repubblica anticipò Berlusconi e diceva che si passa dalle gravata fantasie minestrina, come la chiamo io, film del mess, recoltate Antonio Mancinelli, fino ad accuse molto pesate, e il giorno dopo mi chiamo un amico che lavora a Mediaset, tutti quelli che lavorano a Mediaset sono un po' cattivi, diceva guarda, è impazzito, ti odia, e la cosa che più l'ha offeso è stata quando tu hai scritto che la sua legazza è quella di un venditore, di aspiratori, di aspiravolvere folletto, perché è quello poi, il concetto di eleganza, e questa cosa, a parte il fatto che mi dà di grande soddisfazione, però mi ha dato molto da pensare, perché se mi ricordate all'epoca, non so chi di voi è abbastanza grande, è la metà, così è tutti i ragazzini, già nel 1994 si è capito che a Silvio non interessava l'obiettivo, ma quello che c'era sopra, la famosa calza, no? Mi ricordate che mi fece mettere la calza sull'obiettivo in modo da avere meno rughe, ma nel 2001 poi, erano amare al lavoro di Photoshop, io intervistai addirittura i grafici di Mondadori, che erano disperati da dover aumentare la massa dei capelli, eravamo ancora che è capito, è andato da Caraceni, dove lui si vestiva, dove piangevano, diciamo noi gli facciamo delle meravigliose giacche, e questo si mette le spalline da solo, per cui il famoso detto prendere il peso sulle proprie spalline, e quindi lì ho capito che forse aveva colpito un nello scoperto della strategia bellusconiana, se mi ricordate bene e poi, come dire, per me per le persone personali l'ho seguito, anche al corso degli anni fino adesso, ha cambiato completamente il modo di vestire, il modo di essere e il modo di presentarsi, però lì, se facciamo un momento di rewind, una persona che aveva lanciato lo slogan d'Italia con l'azienda, come volete che presentasse il suo programma politico? esattamente come una merce, doveva piazzare una merce, e qual era la merce principale che doveva piazzare gli italiani? Se stesso, e quindi il fatto che ad esempio lui proibì a tutti gli altri di Forza Italia, vi ricordate che c'era anche il famoso kit che comprendeva due blazer blu, quattro camicie azzurre, tre caratteri colori, una serie di videocassette, cioè c'era proprio questo kit che veniva dato ai candidati di Forza Italia. E il fatto stesso che, come dire, nella pubblicità, nel dover vendere un prodotto, in questo caso si offre al proprio lato migliore, si offre a quello che viene considerato l'aspetto più appealing, l'aspetto più in qualche modo accattivante che induca in tentazione, ha fatto sì che lui sia stato veramente uno spartiacque nella classe dei poteri. a considerare, questo è stato un geniale, l'apparenza come parte fondamentale della sua strategia politica. Tant'è vero che, fino ad allora, se voi pensate alla classe politica soprattutto italiana, a voi viene in mente, come complementa a me, un'interrotta serie di negli, di grigi, no, di negli, di blu, di grigi. Cioè, l'aspirazione, penso alla grande democrazia cristiana, è quella di sostanzialmente neanche di essere legati ma di passare essendo osservati, di essere visibilmente composti, anche per compiere naturalmente notevoli malefatte. Ma quello che capì, che veramente era molto importante l'apparire piuttosto che l'essere, cioè la vendita dell'apparenza, fu sicuramente lui. Anche perché io poi trovai delle altre forze, cioè delle altre fonti, no, quello che mettete le aziende scarpe, c'era comunque un atteggiamento assolutamente di packaging di se stesso e di chi lo seguiva, che poi in qualche modo fu confortato, anche se posso leggere una citazione. non so se voi conoscete uno dei più grandi pubblicitari che c'è stato in mondo, adesso credo sia in pensione, si chiama Jacques Segelat, è quello che aveva inventato lo slogan La Faustre Chie per Bitterrand, e Segelat dice, cosa credete? L'atto elettorale è un atto di consumo come un altro. È più mediatico, ma obbedisce le stesse regole. La sola differenza è che acquistate il prodotto per 4-5 anni, che non potete restituire un fabbricante a caso di insoddisfazione, e che decide lui per il vostro avvenire e per quello dei vostri figli. Eppure tutte rassunte uno slogan, esattamente come quando si lancia un detersivo e un'automobile. E pensate alla sublime banalità dello slogan Forza Italia, che fino allora apparteneva alle squadre di calcio, a chi pifava per la nazionale, e quindi alla retorica legata a tutto un tipo di cultura popolare, che non vorrei in questo senso passare a svolta, ma un tipo popolare in senso interiore, che comprendeva quindi anche un aspetto che non era in realtà la vera eleganza, la vera eleganza è tutt'altro, la vera eleganza volete, non abbiamo un'altra volta, ma era l'idea che l'eleganza ha la signora o il signore medio o medio basso, e quindi il tipo di elettori a cui lui voleva puntare e a cui lui voleva rendersi. E ci sono altre due immagini, non so se vi ricordate, quando abbiamo parlato di quando lavora e quando no. C'è un'immagine, che forse vi ricordate, che è abbastanza inquietante, in cui lui fa giochi con tutti i suoi brodi seguaci per i giardini in Sardegna, tutti vestiti in bianco, tutti quanti vestiti con i calzoncini, tutti i t-shirt assolutamente perfetti, un po' soldateschi, un po' minacciosi, come diceva prima giustamente guerriero, e poi c'è invece un altro momento altissimo, qui siamo già più verso la seconda fase dell'immagine berlusconiana, della famosa vacanza in Sardegna, quando lo raggiunge il suonichetto di sempre, in quel momento lui arriva con la bandana a teano che era andato con Tony Blair. E in quel momento c'è uno scontro di titani, perché lui esibisce dei bermuda improbabili, delle camicie a maniche corte con le spalline, Vladimir Putin, con dei cinturoni simili Versace, un dorato, quindi con una sorta di esibizione di se stessi che in qualche modo rappresenta però anche un modello aspirazionale, e attenzione, tutto questo non riguarda solo lui, ma ovviamente riguarda anche chi ha condiviso il suo occhio politico, il suo piano politico, per cui penso anche alle donne del suo partito, e penso anche alle donne che ad esempio hanno costellato l'imperio Mediaset, da un lato le ragazze, come dire, facili, e quindi sbosciate, e quindi un po' nude, e quindi tentatrici, poi ci chiamisce tutte e due, c'è la Santa Ghè, dall'alto le signore serie, per cui Merede Filippi, che si vestiva in mani un tempo, le giornaliste del TG5, quindi tutte molto composte, tutte in giacca, tant'è vero che in uno dei decaloghi che lui manda a tutti i suoi dipendenti c'è la proibizione assoluta di farsi crescere la barba, il povero Lamberto Sposini, che all'epoca con lui scelte il TG5, venne radiato per sei mesi perché si è fatto crescere il Pizzo, e venne fatta addirittura fuori, venne fatta scomparire, dal buone di Leofede al TG4, una giornalista che, per fare un pochino di ironica, si era tinta capelli di blu, e se vi ricordate bene, questa viene praticamente, non so, sciolta nell'acido del laghetto della monta d'oro, insomma, con il cibo. In questo senso trovo che l'apparenza trovi Berlusconi veramente un cultore, da cui forse hanno imparato anche molti altri politici, e siccome abbiamo detto che non era soltanto su di lui, volevamo mettere il focus, pensare anche a, naturalmente al nostro caro Quattelorenzi, che arriva con i suoi giubbottini di pelle, che arriva con i suoi gizzi, con le sue cravate troppo larghe, ma che quello che oggi, con parola nuovissima, adesso va molto di moda, fa dei fighi, adesso va di moda a dire Nordcore, cioè investirsi male, però adesso va di moda a dire l'inglese Nord, quindi è, Quattelorenzi le vitome, no, la normalità, quasi nella banalità, però c'è questo influsso degli elementi americano, c'è questo concetto di sono uno di voi, metto i tweet con l'hashtag stai sereno, sono un po' come voi, anche questo si sta vendendo molto bene, e anche la moglie non la pensiamo come una piccola di eleganza, ma per esempio io penso a un uomo come Obama, dove invece quando ci fu la famosa battuta infelicissima di Berlusconi che disse, bello il giorno di abbronzatevo, c'era proprio un'invidia pazzesca, lì c'era un atto di sottomissione fisica, cioè laddove Berlusconi cercava di ottenere consenso attraverso la sua immagine, e l'immagine, vuol dire, contagiava tutti coloro che facevano parte di Forza Italia, altrettanto fa Obama ma in maniera assolutamente diversa, c'è una famosa foto di Obama in cui lui fa ginnastica, che si tira su soltanto con la forza delle braccia, qualcosa che non riuscirei mai a fare, ma che dimostrano lui invece punti sul corpo, e sul corpo tonico, sul corpo che induce, se non timore, sicuramente rispetto, diciamo, però, figo, c'è questo, e la signora Michelle, che secondo me è ancora più intelligente di lui, ha fatto del sorghigliamento un'esperienza politica estremamente forte, tant'è vero che tutti i giornali del mondo hanno parlato del fatto che non soltanto lei abbia scelto nel corso degli anni tutti i vestiti che oggi chiameremo low cost, comunque, se non, diciamo, da poveri, sicuramente abbordabili da quasi tutte le donne, e quindi qual è il sottotesto, anche io sono di voi, guardate come Mr. Danny, alcuni modelli sono addirittura andati esauriti, perché li aveva portati Michelle Obama, ma addirittura ha indossato in due occasioni ufficiali diverse lo stesso vestito, esattamente come farebbe ciascuno di voi, quando ha un abito elegante, dicevo, io non mi vedo perché devo cambiare non mi è così un ufficiale in un vestito, non è che non mi mette il nome, mi faccio un vestito nuovo. In tutto questo è l'apparenza, quella che conta nel momento in cui c'è da ottenere un tipo di consenso. Ti parlavo a Gabriella anche di quando, facendo, posso continuare, si, lo sto asforando mostrosamente, di quando il buono Enrico De Aglio, posso incontrarlo? 5 minuti, vado velocissimo, di quando il buono Enrico De Aglio, che è sempre stato molto attento a questi fenomeni, mi chiese un pezzo di moda sul G8, quello che ha fatto Giuliani, e ovviamente la reazione istintiva è stata, no, mi fa stare troppo male, mi trovo insensato fare un pezzo di estetica di moda su un momento così tragico della storia italiana e in generale mondiale. E invece poi Enrico aveva avuto questa illuminazione perché non è arrivata in relazione delle foto del black block e queste foto erano stranamente inquietantemente e bizzarramente bellissime. Sembravano scattate una fotografia professionista, questi black block vestiti tutti di nero, con il volto coperto, avevano qualcosa quasi di vernicamente, quasi queste pose plastiche mentre lanciavano le bombe e quindi Enrico, anche a me una volta che l'avevo vista, era sembrato strano che fossero degli scatti casuali fatti durante una manifestazione così violenta, dove non successe delle cose così violente, mentre queste persone portivano di violenti, di vandalismo e così via. Dall'altra parte c'era, non so se vi ricordate, anche tutta una nuova divisa per i poliziotti, il famoso robot, quello che poi picchiò, avevano delle lise che somigliavano a quelle dei giocatori di rugby e così via. Cosa ne è successo? C'erano anche le tute bianche che andavano in giro con le tute bianche, con i palmi delle maldipinte. Cosa ne è successo? facendo appunto il mio lavoro, c'è quello del giornalista, ma anche un po' del topolino che va a chiedere le cose, ho telefonato al ministero dell'Italia che mi dice, sì sì, voi non lo sapete ma avete pagato, abbiamo pagato qualcosa come parecchi soldi, tipo 15 mila linea a testa per le nuove divise e la polizia concepite appositamente per il G8. E quindi di fronte ai black bloc belli, a questi poliziotti oscuramente minacciosi e di fronte a tutta una serie di manifestazioni come anche quelle delle tute bianche, quello a cui poi alla fine arrivamo fu che al contrario che nel 68 dove c'era il codice vestimentario, ma era un codice vestimentario che rispettava l'ideologia, al contrario nel 68 c'era la perfetta coscienza assolutamente puntuale del fatto che questo tipo di protesta e questo tipo di manifestazione sarebbe stata in primi sulla manifestazione mediatica e che quindi sarebbe passata prima dall'aspetto visuale, prima ancora che dall'essere giudicata dall'aspetto politico, dall'aspetto machistico. Tant'è vero che appunto ci fu questa specie di emizione, di scoperta in cui veramente forse la moda che ci sembra così talvolta inutile, così talvolta frivola, ha giocato qualcosa talmente importante, talmente importante che, e a questo punto vorrei far contatto un buon amico curriero, vorrei chiudere con una citazione, è tratta da un libro che non ho letto, ma poi capirete bene. Vorrei chiudere con questa citazione, che potrebbe andare bene per tutti i luoghi impotenti di oggi, che dice, è un errore considerare puramente politico quello che noi facciamo. Sapete chi l'ha scritta? Adolf Hitler e Mein Kampf. Ciao.